Allora, questa è la nostra fustellatrice laser modello Eclipse, una macchina per un formato 50-70 e 70-100, innovativa che presentiamo in esclusiva e in anteprima qui a Grid4All a Milano. La macchina è composta da un metrifoglio a palette, da cui partono i fogli, un primo gruppo di cordonatura battuta con una messa a registro automatica del foglio, un rinvio a 90 gradi, un secondo gruppo di cordonatura battuta, sempre con il registro automatico, per creare un reticolo di cordonature in qualsiasi posizione sia necessario per avere una perfetta qualità di cordonatura e avere delle cordonature meccaniche che siano perfettamente lavorabili per un passaggio di produzione successivo. Finito il gruppo di cordonature entriamo nel gruppo di taglio laser in cui abbiamo due fotocellule di controllo che allineano il foglio automaticamente rispetto alla stampa. Queste fotocellule possono essere montate superiori o inferiori per poter leggere sia il foglio da sopra che da sotto, quindi per poter mettere al registro i fogli sia in bianca che in volta per agevolare il taglio del laser sia in entrata o eventualmente da un lato o dall'altro per non avere problematiche con materiali particolari tipo il plastificato o l'opaco. La stazione di taglio laser è una stazione che è composta da un gruppo di trasporto a cinghie di acciaio inox in modo che abbiano una tenuta perfetta del foglio complanare rispetto al trasporto e che permettono anche un'aspirazione di tutto quello che è la parte di sfrido all'interno del foglio. Questo gruppo di taglio laser è composto da un laser da 750 watt e ci permette di fare qualsiasi taglio di immagine laser su formati, ripeto, sia 50-70 che 70-100. successivamente al taglio laser abbiamo il gruppo di sfidatura del prodotto, quindi il prodotto che è stato pulito tramite l'aspirazione di tutti quelli che sono gli sfidi interni del foglio viene tolta la cornice esterna, quindi sfidato il prodotto e successivamente entriamo nel gruppo di infilatura che prende i prodotti singolarmente e infila le singole pose del foglio creando pacchetti di prodotti finiti, puliti, tagliati e sfridati direttamente e raccolta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.